Vanessa è un'insegnante della scuola di infanzia di Vieste, comune in provincia di Foggia. Ogni mattina alle 4.30 parte in viaggio per raggiungere la sua destinazione. Prima ordona Foggia, poi Foggia-Manfredonia, Manfredonia-Mattinata, fino a raggiungere Vieste. Il viaggio è lungo, pieno di curve, con rischio frequente di nebbia, animali sulla carreggiata e frane. L'arrivo a destinazione è previsto alle ore 8.15, per un totale di 120 km e 3 ore di viaggio. La docente è entrata in ruolo nel 2020-21, con conseguente vincolo. Quest'ultimo è stato istituito dalla legge 159-2019, il vincolo quinquennale, poi ribadito dal DL Sostegni-Bis, che riduce il blocco della mobilità a tre anni. L'insegnante ha rilasciato alla tecnica della scuola il suo disappunto, facendosi portavoce anche di altri colleghi vincolati. Circa 20 insegnanti della provincia di Foggia rischiano giornalmente su questo percorso, con immenso stress e preoccupazione. Oppure sono costretti ad accollarsi affitti, utenze e spese di viaggio, unite alla sofferenza di star lontane dai propri cari, che necessitano di loro, nonostante i posti vicino casa ci siano. Tutto ciò per un vingolo disumano, che le dettanti diritti, come la libertà, il diritto alla famiglia, alla salute, i diritti del fanciullo e dei figli, ad essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti dai propri genitori, e a crescere in famiglia. Grazie. 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 Grazie.